Sa dirmi cos'è un planisfero? Dai, questo qua l'abbiamo fatta! No, no, no! Ma questa è un po' di polisciolo, grande! La palla di polisciolo è il mondo, il mappamondo. È messo sulla cartina geografica e steso. Non è proprio, è una rappresentazione sulla carta. È messo sulla cartina geografica e steso. Sì, un piano. Ok, ok. Come vengono chiamate le linee immaginarie orizzontali tracciate sul planisfero? Orizzontali? Orizzontali. Longitudine. No, 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 no. No, 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 no. Parallelo. La mia maestra diceva se hanno le zuppe e pan bagnato, ma ci arriviamo. Ne conosco quattro, l'ho azzeccato alla terza. E invece come vengono chiamate le linee immaginarie, questa volta verticali, che sono tracciate nel planisfero? Paralleli e... Meridia. 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 Paralleli. Eh, sento dei suggerimenti. No, non l'abbiamo fatto. No, un scu... Meridia. Meridiani. Bravo. Meridiani, ci siamo arrivati. Come viene chiamata la distanza di un luogo dall'equatore?